Che piano va? Come va? Tutto bene? Come va? Sa, sa, ha una faccia conosciuta lei, non l'ho già vista al cinema, al cinema, l'ho vista al cinema, sa, e insomma, sa che non pensavo, non pensavo realmente che gli attori dopo finito il bimbe andasse in giro così, ancora tutti vestiti, chi ha messo la colla? La colla! Insomma... Mmm... Oh, sono arrivato! Salve, salve! Salve! Ciao! Ciao! Ciao!